Lello Pisapia, giornalista addetto stampa della potistica internazionale San Lorenzo. E' stata presentata questa mattina al Palazzo di Città di Cava di Tireni la 53esima edizione della potistica internazionale San Lorenzo, autentica classica del potismo su strada di fine stagione che si disputerà domenica 28 settembre a Cava di Tireni con partenze d'arrivo previsti come di consueto nella frazione di San Lorenzo. Al via numerosi atleti di spessore internazionale che caratterizzano questa edizione della potistica. Tre sono le competizioni in programma, la prima alle ore 15.15 riservata agli studenti delle scuole medie a conclusione del progetto Aspettando la San Lorenzo. A seguire alle ore 15.45 ci sarà la gara riservata agli allievi dai cadetti e poi il momento clou alle ore 16.30 con la gara assoluti maschile e femminile che vedrà appunto tanti atleti davvero importanti ai nastri di partenza, tutta a caccia del caniano Julius Rono, campione in carica che anche quest'anno si ripresenta ai nastri di partenza. Al termine dell'intenso programma agonistico e in programma poi la cerimonia di premiazione durante la quale come di consueto sarà premiato anche l'atleta Cavesi dell'Anno che quest'anno è il pongista Pietro della Brenda Milito.